Al centro della città, in piazza Santa Maria Maggiore, spicca una grande meridiana murale di antichissima origine, posta sul palazzo Conti Gentili. Prende nome da Papa Pio IX che la fece edificare. Questa è la Fonte Pia. L'amirata è lo stile romanico-gotico della chiesa di Santa Maria Maggiore, sorta nel V secolo, con tre porte di accesso e un rosone fiorito. Nel punto dove si incontrano qui ad Alatri, via San Francesco, Corso Vittorio Emanuele e Corso Cavour, sorge il Palazzo Gottifredo. Il Palazzo Gottifredo si presenta come un imponente complesso architettonico, costituito da due organismi. Una casa-torre a tre piani e un ampio edificio. L'ingresso principale alla torre, costituito da un portale tipicamente gotico, si trova a lungo corso Vittorio Emanuele. Quattro chilometri dell'antico circuito murario proteggono il centro storico. Le porte antiche sono vicine o corrispondenti alle omonime chiese, ancora esistenti o distrutte. Esse sono San Benedetto, San Francesco, San Nicola, San Pietro, l'unica che non ha un nome religioso e la porta portati. Andiamo a Giuseppe Morini, da questa loggia qui alle spalle di Santa Maria Maggiore, è la città Alatri dei ciclopi. Questo ciclope con un unico occhio è un ciclope buono, cazzivo, com'è il ciclope di Alatri? Il nostro ciclope è buono perché ha fondato e ha creato una città bellissima. Noi abbiamo l'acropoli con la cinta muraria ciclopica, che è l'unico sito archeologico ancora vissuto. Noi abbiamo altri esempi a Micene, a Creda forse, però sono siti archeologici e basta. La nostra acropoli è ancora vissuta, c'è l'episcopio, c'è la cattedrale, c'è un parco giochi dei bambini, è un salotto e di sera è molto piacevole soggiornare su al giardino dell'acropoli perché c'è un'aria, un venticello veramente da apprezzare e gradevole. Quindi il nostro ciclope appartiene alla famiglia dei buoni, come tutta la città di Alatri poi. Molto silenzio. Noi siamo su questa loggia dove abbiamo la gran parte delle opere d'arte della città a portata di mano. Siamo proprio di fronte alla chiesa degli scolopi, una chiesa di mestiere barocco, è una chiesa che ancora funziona, momentaneamente viene adibita ad auditorium occasionalmente perché era legata al collegio dei conti gentili, era un collegio che è stato gestito dai prati scolopi fino al 71, poi è stato abbandonato per mancanza di vocazioni, e poi è rimasto una scuola pubblica, c'è il liceo classico che purtroppo sta soffrendo iscrizioni in quest'ultimo periodo. Siamo nella piazza Salotto dell'intera provincia, non c'è in provincia di Forsegnuno una piazza altrettanto bella e questo mi è riconosciuto, non è che lo dico per orgoglio campanilistico che il sindaco deve sempre un po' enfatizzare il suo territorio e la sua città, però questo è un riconoscimento ufficiale. Poi abbiamo la chiesa Santa Maria, maggiore, in stile romanico, molto bella all'esterno e molto bella all'interno e conserva dei tesori preziosi, una Madonna di Costantinopoli, una scultura linea, abbiamo un trittico, veramente sono bellissime cose, lì è venerata la Madonna della Libera che esce da questa chiesa ogni 50 anni, c'è una processione ogni 50 anni, è stata fatta circa 10 anni fa e quindi questa processione non si la farà ancora per molti decenni, però questo ci consegna di gemellarci con altre città d'Italia che venerano la Madonna della Libera, noi siamo gemellati con Pietrelcina, il paese di Padre Pio, siamo gemellati con Rodica Organico, siamo gemellati con Filetto e con Prato la Peligna, anche con altre città che adesso non mi vengono in mente. Quindi le nostre delegazioni vanno alla loro festa della Madonna e loro vengono l'8 settembre, dove c'è una grande festa religiosa associata a una festa popolare, a un mercato popolare, la Sacra delle Cipolle che è un prodotto tipico di questo territorio e qui in questa piazza qualche volta si è anche tenuta una esposizione gastronomica nei modi di cucinare le cipolle. Qualche giorno fa, il 21 aprile, è stato festeggiato il Natale di Alatri perché si fa ricadere alla nascita di Alatri al 21 aprile, solstizio d'estate e alle 5.30 del mattino eravamo 150 persone lì ad aspettare il primo raggio di sole che sorge nella punta est, nell'estremità est e con la sua inclinazione va a colpire un punto prestabilito sotto le fondazioni dell'acropoli che misura una certa lunghezza aurea che moltiplicata per 6,28 che è una costante matematica importante, sviluppa la distanza tra il punto dell'estremo delle mura e questo punto di intersezione del raggio per 6,28 e l'intero perimetro delle mura poligonali, quindi questa è la prova che la nostra cinta muraria è stata disegnata proprio su schemi astronomici, non a caso. Poi qui noto in questa via via Roma che ci segue a sinistra una chiesa importante di Santo Stefano, è importante perché è aggregata e interna al convento delle suore benedettine, questo convento mi fa pensare a tante cose, intanto è un convento di clausura e all'interno di questo convento c'è l'adorazione perpetua, notte e giorno due suore adonano in Santissimo Sacramento e pregano in ginocchiate davanti al Sacramento a turni di due ore, questo non succede regolarmente in tanti altri conventi, qui ad Alatrini succede ancora questo. Per cosa è famosa l'Adri? Allora l'Adri è famosa per le sue mure ciclopiche che sono maestose e ricostruiscono la storia del nostro paese. Per cosa è famosa l'Adri? Beh Alatrini al di là delle bellezze architettoniche storiche è una città che ha una grande tradizione popolare, lo confermano le grandi manifestazioni che si svolgono durante l'anno, sia nel periodo della Pasqua con il Venerdì Santo che è una tradizione ormai di fine 1700, ma non possiamo poi dimenticare eventi folkloristici come il Festival che quest'anno raggiunge i 40 anni e poi anche tante manifestazioni che sono radicate proprio nel cuore pulsante dei rioni, le sagre, eventi tipici. Per le mure ciclopiche e per l'orologio solare. Per le mure ciclopiche. E per qualcos'altro? Ma peraltro niente, in quanto purtroppo non è tanto popolata e le mure dovrebbero essere più folite e mantenute molto meglio. Per le mure ciclopiche. Per cosa è famosa Alatri? Penso che ho preso dopo. Per cosa è famosa? Sì. No, non mi riprendete. Ma mure ciclopiche, poi anche il mangiare si mangia bene. Buonasera. Alatri è famosa per? Per? Eh, belle cose. Le mure ciclopiche. E poi? La cucina. Un piatto tipico? Oddio, così sui tuoi piedi. Un piatto tipico? Non mi viene così. Allora parliamo di un dolce tipico. Il gelato, ma è un po' di parte questa. Giorno sta assaggiando Alfonso. La signorina ha tradito, mi ha tradito la signorina. E io? Un dolce, un piatto? Le fettuccine. Cucinate come? Col succo, normale. Le ciambelline di magro. Come sono fatte queste ciambelline? Con olio, vino, farina e zucchero, tutto in uguale quantità. Però sono della ciociaria in generale, non solo di Alatri. Per le sue mure ciclopiche, insomma, per la sua leggenda, la sua area di mistero. Ragazzi, mi sento male, venite. Uh, non è possibile, anche in farmacia, che lì sarà successo? Un piatto tipico? Un piatto tipico? Maccheroni alla ciocciara. Per noi è la Renzi. E poi? Per la cucina ciocciara. E raccontaci un po' questa cucina ciocciara. La fettuccina, il pomodoro, il ragù. E poi? E poi qui l'agnello alla brace, caratteristico per tutta la provincia di Frosinone. E un dolce? Un dolce tipico di Alatri. Non so, dei dolci perché... I mostaccioli? I mostaccioli. I mostaccioli? Alfonso! Oddio! Sta ovunque Alfonso, ragazzi! Aiuto! Vai, tenne vai! Un piatto che cucina sua moglie spesso? Mi moglie fa... E mi moglie non è capace, è la mia suocera. Sua suocera? I fini fini. E cosa sono? Ce li descriva? Teruni. Conditi con cosa? Una volta si facevano con le cose di pollo, tutti gli avanzi di pollo. Adesso li fanno con il sugo. Quella che vedete alle mie spalle è Santa Maria Maggiore, la piazza di Alatri. Mi hanno detto che Barbara è in un wine bar, in un lunch bar. Secondo me è questo. Si chiama Barolo Lunch. Raggiungiamola. Siamo in compagnia di Daniele Scaccia, proprietario del locale Barolo Lunch. Gli chiediamo come ti è venuta in mente questa idea di questo locale, di aprire questo wine bar? Ma un po' di pazzia c'è stata in realtà, perché non è un discorso semplice. E poi tutto per passione del vino, basta. Solo per questo motivo qua. Quindi è proprio una passione che hai, che l'hai fatta sfociare in un lavoro. Esattamente, sì. Praticamente ho unito la mia passione al mio mestiere, quindi è stato bello così. Raccontaci un po' che gente frequenta il tuo locale, che tipo di giovani, adulti. Le fasce d'età vanno dai 25 in realtà, dai 25 a salire. Perché il discorso della degustazione magari prevede anche un po' di, lo dico esperienza, però ci vuole un po' di concentrazione nel bere. E poi c'è di tutto, ci si diverte anche con i ragazzi comunque. Dalla tua esperienza, un vino che ti piace, il tuo preferito, quello che ci consiglieresti? Barolo. Barolo tutta la vita. Raccontaci un po' com'è questo vino. Beh, vino 100% nebbiolo. Nebbiolo sarebbe l'uva con cui viene prodotto. Un vino che fa molto legno, quindi è un vino che viene passato in botte per parecchio tempo. Vino molto strutturato, molto tannico. Un po' scarico di colore a volte, anzi quasi sempre. E' ottimo con la carne, quindi sempre comunque con bistecche e qualsiasi tipo di carne. Visto che ci troviamo ad Alatri, consigliaci un vino adatto a un cibo tipico, a un piatto tipico di questa città. Eh beh, ovviamente cesanese del piglio, quindi si tratta di un rosso molto strutturato e di solito molto alcolico. Quindi da abbinare con carni abbastanza condite. Quindi carni tipiche come possono essere l'abbacchio o altre cose del genere. Sappiamo che sono famose anche le fettucine qui ad Alatri. E come le possiamo abbinare, le fettucine a quale tipo di vino? Eh, le fettucine sempre al sugo con un buon vino rosso. Ciesanese va benissimo. E la gente che ti viene a trovare, qual è il vino che preferisce? Cosa gradiscono di più? Eh, qui si vendono molto bollicine, quindi spumanti a metodo classico, Franciacorta. Quindi preferiscono più un vino bianco rispetto... Sì, sì, sia in estate che in inverno. Si va molto molto con i bianchi. Ricordiamo alla gente che ci sta guardando comunque che bisogna bere con cautela e soprattutto alla guida, prima di mettersi alla guida, non bisogna bere. E invitiamo la gente, non di Alatri, a venire a bere qui al bar... Barolo Lounge. Gli offriremo un bel bicchiere di vino? Senz'altro. Quello che gradiscono loro? Ovviamente sì. Allora, noi chiudiamo, ti ringraziamo per l'accoglienza che ci hai dato e vorrei chiederti un vino da associare a questa trasmissione e alla nostra intervista. Un vino bello brioso. Adesso non mi viene nient'altro in mente che il Barolo. Perché è il tuo preferito, allora ci consigli quello. Grazie.